amici di senauto benvenuti da autogruppe s in corso giulio cesare 324 a torino ad un passo dall'uscita per la torino milano attenzione perché oggi si parla della nuova swift e degli incentivi con giovanni maggiore ciao giovanni ciao vittoria bentornati tutti voi protagonisti li avete scoperti allora ascoltiamo tutto giovanni ti seguiamo andiamo amici siamo di nuovo qua con vitara notate delle differenze si è arrivata la nuova versione di vitara venite a scoprirla nuovo design info time di ultima generazione a partire da 20.400 euro con incentivi satali per la rotamazione il mini suv da città di suzuki ignis ibrida due ruote motrici o quattro ruote motrici con incentivi ascoltate bene a partire da 15.900 euro crossover di casa suzuki s cross l'ultima arrivata in casa suzuki venite a scoprirla a partire con incentivo da 21.400 euro ed eccola qui l'ultima di casa suzuki la nuova swift nuovo design nuovi interni e nelle nuove colorazioni arancione amsterdam o verde hawaii venite a scoprirla con incentivi da 17.400 euro e come ad ogni appuntamento vi ricordiamo il nostro vasto assortimento di veicoli usati di auto group s con garanzia nostra venite a provarlo e possiamo finanziare totalmente qualsiasi usato venite siamo giunti alla conclusione di quella che è la nostra puntata e quindi vi ringraziamo per essere stati con noi fino ad ora e vi ricordiamo ancora una volta che l'intera gamma suzuki qui disponibile da auto group s rientra in quelli che sono gli incentivi statali tutto vero confermi giovanni confermo vittoria venite a trovarci vi aspettiamo disponibile anche la nuova twist auto group s corso giulio cesare 324 a torino